Approvazione del bilancio con 233.000 euro di utile e crescita da 3 a 5 membri all'interno del Consiglio di Amministrazione di AISA Impianti, ma senza aumento di costi. È stato il nuovo vertice della società insieme al Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli al termine dell'Assemblea AISA Impianti ad illustrare la fotografia attuale della società. È un impianto che è passato da smaltire a recuperare sia energia ma anche materia, per cui il bilancio riassume in sintesi la possibilità di fare una politica tariffaria contenuta ma nello stesso tempo di avere solidità di bilancio, cioè la situazione patrimoniale deve essere sempre corretta e nello stesso tempo permettere gli investimenti necessari. Non soltanto riesce a smaltire a costi bassi, non soltanto riesce a produrre energia, ma lo fa anche in maniera ecocompatibile, quindi in maniera tale da non produrre alcun tipo o comunque inquinamento a livelli assolutamente accettabili per il contorno. Quindi la nostra politica di rifiuti dei prossimi anni si basa su questo caposaldo industriale che è saldamente nelle mani del Comune di Arezzo e di altri soci comuni che oggi hanno con noi approvato il bilancio. Non è più invece all'ordine del giorno il raddoppio dell'inceneritore. Il nostro impianto è in grado di soddisfare sempre più e sempre meglio i fabbisogni locali, sicuramente dei comuni soci e forse anche di qualche comune non socio ma sempre nell'ambito della nostra provincia. Nell'orizzonte futuro della società inizia a delinearsi la produzione di biometano. L'idea è quella di sempre più partecipare alla raccolta differenziata attraverso il recupero della parte organica e per cui all'interno della parte organica è possibile sfruttare la parte energetica, scatturare il gas e trasformarlo in biometano.